Ciao a tutti ragazzi, allora bentornati su Godis, oggi abbiamo un bel po' di cose da fare, siamo la salita a livello 55, in questa puntata speciale vorrei fare un saluto a Eleonora, che so che ogni tanto mi segue, quindi ciao Eleonora. Un bacione, adesso completiamo il livello del bosco, così ci portiamo avanti, nel frattempo io ho cambiato l'estriero, l'ho fatto evolvere, lo so se è un po' lento ma che ci posso fare, qui non abbiamo la fibra, ci vuole brusco la fibra, andiamo va. Dobbiamo ammazzare tutti i mostri. Dai arriviamo alla fine di questo livello, beh a me questo gioco piace, parecchio anche, so che è un po' rilento ma purtroppo è un problema di internet, non di pc ovviamente, e purtroppo per internet non ci posso fare molto io, perché a bene guardo non metteranno mai la fibra e so cosa dirvi ragazzi, è un macello, è un macello, oh brutto stronzo, ti muori o no? Bene, abbiamo vinto, vabbè non avevo dubbi, logicamente diventiamo sempre più forti, quindi non è difficile. Gli stalli in miraggio che servono poi per dar da mangiare alle idee barra cavallo. Allora, parliamo con Zafì la spadaccina. Grazie per il tuo duro lavoro, guerriero. Prego, Mimì. I guerrieri devono essere pronti a combattere in ogni momento. Sono i primi ad essere chiamati nei momenti di bisogno. Vai, completa un incarico urgente e dimostra di essere un vero guerriero. Molto bene. Incarico urgente. Qua. Campi. Oh mamma, Gesù mio. Accedi. Cosa dobbiamo fare? Incarico urgente. Tocca per trovare la via. Ti levi? No. Dobbiamo alzare il cinghiale. No. Ma più ne ammazza più ne arrivano, quindi non so. Ma più ne ammazza più ne arrivano, quindi non so. Eh. Quindi. Ancora i cinghiali dobbiamo ammazzare Ce l'hanno com'è i cinghiali allora? Porca zozza Dai ma figa ma non finiscono più sti cinghiali Mangerò mai un cinghiale in vita mia? Stanno già sulle balle Un carico urgente era ammazzare i cinghiali No dimmelo eh Devo fare una grigliata Abbiamo dei seri problemi con i cinghiali ragazzi Non ti non ha da arrivare Mi hanno suffatto O cinghiali di merda se ne va fuori i coglioni o no? Ma perché prima la tipa era andata di là e poi tornata indietro? Trova automaticamente Ho schiacciato ok Allora vai fuori i coglioni da lì Dove dobbiamo andare? Oddio La lucerta, la cornuta Perché ci sono anche le lucerte e le cornute? Si vede che la moglie non era felice Mamma lucerta Perché? Da sconfitta non sottrae tentativi di missione Va bene Ma io non sono stata sconfitta coglione Quindi? Ci sono? Sta cazzo di via o Devo girare ancora un po' come una demente? No Giusto per capire Stai calma Dove sto finendo? Lo so solo io Qui Ce ne sono Lo torniamo indietro Sì ho capito che lampeggi Lampeggi Lupo malvagio Un lupo buono non l'ho mai conosciuto Sì ho capito che Ma perché te ne vai per i cazzi tuoi? Vai di là? C'è scritto che devi andare di là? Vai di là I goblin? Cazzo Clash of Clanses Bene Bene Quindi? Ora dobbiamo trovare la strada di ritorno Ce la puoi fare Ciccia Non so più dove siamo Questo forse Oh ma sta missione urgente non finisce più? La devo far finire io quando voglio Va bene Non me ne frega Grazie Ci abbiamo fatto Che è che c'è che c'è sotto i piedi il cane Quindi? Cicciolina Che dobbiamo fare? Mimimi Mi sta tirando Va bene posso controllare il mio destino Ma non avevo bisogno che me lo dicevi tu Allora L'avanguardia demon è raggiunto la città dell'orrore Vai a sbarazzarti di loro Ma dai Che novità Completa città dell'orrore Adesso completiamo questo livello Poi ci fermiamo eh Sempre se il mio pc ce la fa Oh no perché l'hai fatto Asia Sei andata a incasinarti da sola Ma Anna era pupazza C'ho pure un occhio che mi fa male Tranquilla Lei va per i cavoli suoi Prima o poi ci usciranno le armi eh Che cazzo sono? Un orso bruno Mamma se è brutto Io non l'ho mai visto così brutto Di solito gli orsetti sono un po' più carini Non sono così brutti E spaventosi Ancora la luce altra cornuta Minchia figlia mia O stai tenta che caschi dal burrone No i ragni Ancora Odio i ragni Odio i ragni Muori muori Ragnetto schifoso Ragnetto Quando vuole lui No se riesco a farlo fuori qua Giuro ti do Ti do È rosso? Io sono mezza verde Mezza gialla Mezza non so Mezzo è morto Non ci posso credere Ma sa come Era brutto eh Allora ritiriamo la ricompensa Frammento dono tetro Frammento casul Va bene Non ho idea di cosa sia Ma io lo ritiro Eh Molto bene Dove li abbiamo questi? Qua? Qua? Incanta E chi incanto? Lui No lui che è al livello più alto Eh Fatti Bene ragazzi Anche per questa partita di Godis è tutto Ci troviamo nella prossima Un saluto Da Asia Style Come sempre commentate Condividete Pollicione in su Sotto ogni nostro video Troverete La pagina Facebook Twitter E Telegram Ciao 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 Ciao